Sale l'attesa per conoscere il nome del candidato di Fratelli d'Italia che correrà alle regionali. Il via libera sul candidato potrebbe avvenire venerdì prossimo a Riotorto, dove a Borgo degli Ulivi ci sarà l'evento di partito con i consiglieri e i sindaci eletti. In pole position per le regionali il sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi. Ieri nel corso della festa di Fratelli d'Italia a massa il primo cittadino ha avuto una pre-investitura, ma in parallelo gira un altro nome, quello del sindaco di Piombino e eletto per il secondo mandato. L'ipotesi di una sua candidatura c'è Francesco Ferrari, lui che ha sostenuto la battaglia contro il rigassificatore in porto, voluto fortemente dal presidente della regione toscana Eugenio Gianni. Ferrari si è detto lusingato ma ha speso parole di apprezzamento per Tomasi e incita i toscani a cambiare rotta nonostante la vittoria del PD a Firenze con Sara Funaro. Un dato non indifferente per il capoluogo toscano che resta della stessa bandiera politica del suo predecessore Dario Nardella.